Derubato di denaro e altri oggetti di valore nei pochi istanti in cui aveva lasciato il suo posto in spiaggia per recarsi al bar. Giornata al mare non certo piacevole, quella trascorsa da un uomo di 65 anni di canicattì, al quale sono stati rubati il portafoglio con i 200 euro custoditi all'interno, i documenti e la carta del bancomat. L'uomo aveva deciso di trascorrere una giornata al mare all'idopoliscia di Licata. A un certo punto aveva fatto una pausa e si era recato al bar lasciando lo zainetto incustodito nel luogo dove si era fermato. Al suo ritorno ecco l'amara sorpresa e a quel punto non ha potuto fare altro che recarsi al commissariato di canicattì per denunciare l'accaduto. Quest'ultimo caso di furto non è stato certo il primo nella recente estate, sia nella stessa Licata che in altre zone balneari dell'Agrigentino, quali San Leone, Real Monte e Siculiana, dove sono stati presi di mira sia gli averi che di solito i bagnanti lasciano in borse zaini mentre sono in acqua e anche le auto di alcuni malcapitati.